Radio Bruno Francesco è finita la canzone eccoci qua Francesco Gabbani a Radio Bruno ciao Francesco benvenuto ciao grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando e vedendo noi siamo anche in radiovisione come si dice tecnicamente sono contentissimo di essere qua con voi di essere tornato perché è sempre molto piacevole essere a Radio Bruno davvero lo dico senza ipocrisia per noi è un grande piacere viceversa ospitarti a Radio Bruno ci fa molto piacere insomma allora sei tornato al festival di Sanremo sei tornato tra l'altro con una canzone che è un po' spiazzato spiazzato nel senso che non c'entra niente con quelle che avevi fatto l'anno scorso anzi gli anni precedenti nei precedenti Sanremo qualche anno fa dicesti una canzone non la devi scrivere ma la devi cogliere allora vorremmo sapere come è arrivata viceversa cioè chi o cosa hanno ispirato questa canzone come l'hai colta? in realtà è arrivata fra l'altro come ultima canzone di questo album omonimo che è uscito fatto dal 14 febbraio che si intitola viceversa è arrivato in realtà durante il settembre del 2019 quindi una manciata di mesi fa ad album terminato è arrivato in un modo molto spontaneo in un momento in cui in realtà lo dico sinceramente non so se non è carino dirlo ma ero tipo in mutande in ciabatte sul divano di casa e in un momento di così di come posso dire se vogliamo anche di relax infatti secondo me la canzone soprattutto nel ritornello è una sorta di io l'accosto molto al modo di don't worry be happy avete in mente don't worry be happy perché è arrivato in un momento in cui diciamo che volevo esprimere uno stato di serenità e soprattutto il fatto che alla base di tutte le eventuali spiegazioni razionali di quello che fondamentalmente è il sentimento non per forza legato all'amore di coppia ma quindi il sentimento in generale l'amore che può provare un genitore verso un figlio l'amore che c'è tra un rapporto di amicizia molto molto forte in realtà poi si basa sul fatto che c'è un dare avere è andata e un ritorno e quindi questo senso del viceversa sei tu che mi festare bene quando io sto male è viceversa cioè andando al succo della questione quindi è nata in realtà in un modo molto spontaneo e poco artificioso ecco e sono molto contento e tanto è vero che è la canzone stessa che devo dire la verità che mi ha fatto che mi ha dato la convinzione e la voglia di tornare al festival di Sanremo proprio perché mi ha dato la possibilità credo di mostrare un mio o altro modo di fare musica rispetto alle canzoni che citavi tu prima tipo Occidentalis Karma tipo Amen questo modo è un modo sicuramente più emozionale e intimista che in realtà chi conosce la mia musica e la mia storia sa che ho sempre fatto anche canzoni comunque emozionali diciamo così più sentimentali ma probabilmente il grande pubblico ancora magari non aveva avuto occasione di coglierlo infatti molti sono rimasti sorpresi piacevolmente tu intanto spogliati sentiti libero io mi spoglio perché c'è un calore umano proprio qua dentro ma è bello allora mi spoglio nel video si punta tutto sulla tua espressività tu non canti una parola però si leggono sul tuo volto tutte le frasi tutte le parole della canzone è stato molto impegnativo come video in realtà se devo essere sincero sì un po' sì lo è stato però è una sfida che mi ha lanciato il regista che ha realizzato il video stesso che si chiama Fabio Capalbo che è bravissimo con questa sensibilità di cogliere proprio questo aspetto emotivo e infatti mi ha detto se c'è qualcuno con cui posso fare un video di questo tipo sei tu perché diciamo che nutriva una fiducia nei miei confronti rispetto alla mia capacità espressiva però devo essere infatti io sono molto contento soddisfatto del video stesso tant'è vero che pur avendolo fatto pur avendo scritto la canzone in realtà tutte le volte che lo vedo mi comunico è un mondo emotivo che passa dal sorriso al pianto a tutta una serie di sensazioni e la difficoltà però è stata che mi ha chiesto Fabio non devi pronunciare una parola non devi cantare una parola il che per uno che nella vita fa il cantante ed è abituato a salire sul palco e l'espressività facciale o fisica sono una semplice conseguenza del fatto che stai cantando qualcosa insomma non è stato facile però ho un'esperienza bellissima e sono molto contento del risultato diciamo che quanto parlo parlo tanto non vi faccio parlare però ti sei reso conto che saresti anche un ottimo attore stai cominciando a farci un pensierino me lo stanno dicendo me lo stanno dicendo quindi come tutte le cose che io sono abbastanza sono uno di quelli che non cioè nel senso tendo a non essere autoincensante nelle cose e forse le capiscono avendo consapevolezza quando sono gli altri che le osservano e me le comunicano effettivamente dopo questo video in tanti già mi stanno dicendo ma perché mi hai pensato di farlo attore la risposta è perché no non si sa mai ecco se succede qualcuno mi proporrà qualche parte in qualche film perché no però non lo so dovrei non lo so dai lo vedremo vivendo se così fosse Francesco in quale ruolo ti piacerebbe eventualmente recitare cioè che tipo di personaggio eventualmente ti piacerebbe fare guarda la risposta è che non ne ho la minima idea non ne ho la minima idea infatti sarebbe quello proprio il ragionamento sul quale dovrei cioè dovrei capire e valutare perché vi dico questa cosa è una curiosità che io per quanto in realtà il mio modo di pormi anche sul palco sia quello della spontaneità e della sincerità no la verità è che sono uno che non mi vergogna dirlo in realtà sono tendenzialmente perfezionista cioè mi piace avere il controllo e la consapevolezza di quello che faccio infatti so di sapere sono musicista so di essere musicista so di riuscire a controllare la mia vocalità in un modo consapevole quindi sono sereno e disteso e rilassato quando sono sul palco per questo motivo fare l'attore ovviamente dato che non è una cosa che io non ho studiato non ho un'esperienza quindi non lo so dovrei valutarlo però non lo escludo allora c'è un premio qui da dare a Francia adesso Barbara si trasforma in velina perché tu hai vinto il Contro Festival con Viceversa la canzone più votata dagli ascoltatori di Radio Bruno evviva ma infatti io ho detto che questo è il premio io infatti sono venuto qua in realtà apposta per prendere questo premio grazie a Radio Bruno e soprattutto grazie a tutti gli ascoltatori che mi hanno votato io fra l'altro ho qua la mano non so se ti può farvi vedere insomma anche le votazioni stesse e devo dire che che vi cioè riassumo tutto dicendovi dicendovi grazie grazie di cuore perché ovviamente mi fa capire che non lo so che il valore della mia canzone di Viceversa insomma vi sta arrivando e vi è arrivato e questo mi riempie il cuore di gioia diciamo che questo esperimento è ben riuscito assolutamente Francesco Gabbani è a Radio Bruno un'altra delle canzoni che fanno parte del suo ultimo album Viceversa è Un'altra Cosa Francesco Gabbani con noi a Radio Bruno l'abbiamo appena risentito con Occidentali Scar un salto indietro di tre anni sì un salto indietro di tre anni però io mi sto godendo appieno questo momento che sto tenendo tra le mie mani il premio del primo classificato lo ridico ancora un'altra volta abbiamo detto prima che ho ricevuto del Contro Festival di Radio Bruno tiè facciamo un passo indietro ma giusto i pochi giorni volevamo parlare della serata delle cover dove hai scelto di cantare l'italiano di Toto Cotugno da solo vestito da astronauta non era solo una carnevalata non era un gioco ma c'era un messaggio da cogliere sì esatto che però fra l'altro mi ha divertito anche vedere il fatto che ovviamente c'è qualcuno che l'ha colto e qualcuno che non l'ha colto infatti mi è andato anche tipo del sovranista perché ero con la bandiera italiana eccetera eccetera no per me se vogliamo risottolineare il significato che per me aveva volevo semplicemente provare a rappresentare ovviamente forse anche con un tono un po' ironico e sarcastico se vogliamo però che cosa l'italianità quindi l'essere italiani nei pregi e nei difetti che comporta essere italiani che sono ben descritti dalla canzone di Toto Cotugno che valeva io credo nell'83 quando l'ha cantato a lui ma che continuano ad essere declinati ai nostri tempi ovviamente quindi non c'è più la radio nella mano destra ma c'è lo smartphone per dire per fare un esempio però continuano ad essere attuali e però volevo rappresentare perché vestito d'astronato volevo rappresentare l'italianità l'essere italiani nel bene o nel male non sulla terra nei confronti del mondo quindi oltre confini nazionali ma l'essere italiani nel senso universale della vita nel cosmo questo io volevo provare nel senso che noi siamo italiani viviamo la nostra vita da italiani ma non solo nel mondo cioè nel senso universale della vita volevo provare a dire questo questo è stato tu hai un bellissimo rapporto con i tuoi fan in diversi modi anche ad esempio attraverso i social che abbiamo un po' curiosato spesso ti danno anche magari giudizi pareri dicono la loro magari sul tuo lavoro sulle cose che fai eccetera eccetera quanto ti fa influenzare dai giudizi degli altri di solito ma allora se sono come posso dire allora le osservazioni che mi vengono fatte che reputo come posso dire costruttive o quanto meno sincere che hanno un fondamento ovviamente le prendo in considerazione e più che altro credo che mi siano utili per determinare ancora di più chi sono per avere ancora più consapevolezza di chi sono e se riesco tramite le canzoni che faccio ad esprimere quello che penso quindi è sicuramente importante il giudizio da parte dei miei fan che non mi piace chiamarli fan sto dicendo questa cosa ultimamente anzi supporters perché fan mi collega al fanatismo il fanatismo non mi fa impazzire come concetto tolta e chiusa questa parentesi ecco sicuramente ascolto mi fa molto piacere vedere il punto di vista poi invece poi i social e il web in generale ovviamente da adito invece a tante persone che hanno voglia di sfogare la propria frustrazione probabilmente quindi si sentono anche arrivano tante cattiverie però sono fine a se stesse ecco fortunatamente non mi tangono un po' l'aveva anche scritto nella canzone occidentale di Scarma tutti i tutologi con il web è un po' così però quello è ancora un altro il tutologo è ancora un altro discorso il problema è a me mi dispiace mi fa soffrire vedere proprio la la cattiveria con cui certe persone si pongono senza avere un senso e a me questa cosa non mi tange come dicevo prima fortunatamente perché invece poi ho la mia consapevolezza data da altre verità però mi dispiace perché in realtà sicuramente ci sono persone che invece la subiscono questa cosa qua è un po' come il concetto dei ragazzi bullizzati a scuola e questa ovviamente mi fa mi fa soffrire mi dispiace mi dispiace ma adesso vogliamo parlare di una cosa bella i tuoi supporter potranno vederti live in una location che ormai è diventata importantissima per un artista l'arena di Verona l'8 di ottobre l'8 di ottobre l'arena di Verona perché è l'8 di ottobre perché se no si è piaciuto o il 7 di settembre o il 9 di novembre invece è l'8 di ottobre questo giusto per fare un po' il gabba firla no è l'8 di ottobre l'arena di Verona sono ovviamente mai sottointeso però lo ribadisco sono contentissimo di pensare di tenere un concerto in quella location che in realtà ho già avuto modo di vivere però in modo comunitario con altri miei colleghi all'interno di manifestazioni festival eccetera eccetera quindi ho già suonato e che ho cantato dentro l'arena di Verona però ho pensato di fare un concerto tutto mio lì con il mio pubblico i miei supporter che insomma credo che sarà sicuramente una grande festa una bellissima giornata mi piacerebbe anche se sono in via di definizione di organizzazione perché in realtà è una novità anche per me da due settimane a questa parte che io suonerò l'arena di Verona perché l'abbiamo decisa in realtà un paio di settimane fa proprio mentre ero al festival di Sanremo e ho intenzione di vorrei invitare degli ospiti ecco per condividere il palco colleghi con i quali ho una sinergia particolare però non lo so ancora quindi non vi posso dichiarare niente però ecco ci saranno sicuramente degli ospiti benissimo prima verrai a fare un Radio Bruno estate almeno perché noi ti vogliamo quest'estate assolutamente sì assolutamente sì anche perché io sono riconoscente davvero a Radio Bruno perché mi avete sempre dato la possibilità di esprimermi mi avete sempre supportato e mi fa molto piacere e poi insomma le Radio Bruno estate sono sempre circostanze veramente molto emozionanti ho un pubblico caldissimo quindi non mancherò grazie noi prima di salutarti vogliamo sentire un'altra canzone dal tuo ultimo album e viceversa potrebbe essere il prossimo singolo potrebbe che canzone è scusa cos'è il sudore il sudore ci appiccica che poi andando verso l'estate uno dice il sudore uno suda d'estate il sudore che qui ha il duplice valore il sudore ci appiccica ci finisce sia positivamente che pensiamo quando facciamo l'amore o bagliamo con i nostri amici in un momento di divertimento il sudore è una cosa piacevole però poi il sudore è anche inteso come la fatica la sofferenza e anche quello ci appiccica perché l'uomo si aggrega nel bisogno quindi ha questa duplice lettura questa canzone ci sarà un ballo anche di questa canzone tipo l'alligalli lo sto sviluppando probabilmente dai non mi fate dire queste cose non posso vi spoilerate non lo so però dobbiamo dire è probabile che fra poco sei a Bologna tra pochissimo sono a Bologna ore e mezzo alle 5 e mezza la Mondadori a Bologna esatto che va avanti il tour in store che è una sorpresa continua perché c'è fortunatamente un'affluenza incredibile quindi ringrazio tutti quelli che mi vengono a salutare insomma anche dopo a Bologna ci vedremo tra poco fra le tante date ne ricordiamo anche un'altra che il 24 di febbraio sarai a Firenze alla Feltrinelli red alle 18 ricordiamo anche questa data per i nostri ascoltatori perfetto quindi la chiudiamo qui lo lasciamo andare lo lasciamo andare lo stanno aspettando dovrà andare in quel di Bologna è stato bello grazie per esserci tornato a trovare ti aspettiamo questa estate allora sul nostro pari assolutamente grazie a voi a tutti gli ascoltatori ciao 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 baci